ciao a tutti bentornati a un nuovo appuntamento con la rubrica la nutrizionista chilometro zero io sono raffaella bocchetti una biologa nutrizionista e ando a incontrare i produttori locali e i cochi contadini della rete di col diretti marche campagna amiche terra nostra oggi siamo a santa maria nuova in provincia di ancona con giovanni togni ciao dell'antica fattoria e parleremo del pollo allora il pollo è una carne bianca come sapete ed è uno delle carni che maggiormente vengono utilizzate in cucina ha delle caratteristiche importanti per questo che noi la utilizziamo spesso è una carne adatta ai bambini adatta a chi fa sport adatta anche agli anziani perché perché ricca di proteine e soprattutto di amminoacidi essenziali che sono fondamentali per mantenerci in salute non solo ma è anche ricca di vitamine di sali minerali e soprattutto è molto povera di grassi quindi questo è importante quei pochi che ha sono grassi buoni quindi mono e polinsaturi il problema diciamo del pollo che è la gallina giusto giovanni e l'allevamento come viene allevato perché perché il metodo con cui vengono allevati con cui vengono alimentati i polli influisce sulla qualità della carne si parliamo di pollo posso posso dirti nome e siamo pochi contadini siamo quelli che la mattina vanno in allevamento hanno la cura dell'animale sanno la vita dalla mattina alla sera il nostro il nostro allevamento oltre che a essere a terra è anche all'aperto quindi l'animale è libero nelle giornate nelle belle giornate di sole con l'aria fresca di essere libero razzolare beccare il filo d'erba beccare il... quindi un pollo felice diciamo esatto molti molti clienti che hanno scelto noi come fornitori dicono io voglio un pollo felice è stato dimostrato ormai che il benessere dell'animale incide in maniera significativa ovvio sulla qualità della carne e quindi anche sulla nostra salute esatto esatto quindi tu mangi quello che allevi quindi questo è una cosa fondamentale perché perché abbiamo fiducia nella persona che ci vende questa carne perché è la stessa che mangia lui quindi questo è un rapporto molto importante non andare al supermercato dove tra l'altro abbiamo anche il problema di leggere l'etichetta della produzione dove viene allevato qui noi se andiamo dal nostro allevatore di fiducia abbiamo una garanzia di salubrità di qualità dietro un prodotto trovi sempre una persona che ci crede ci mette passione ci mette ricerca perché anche se siamo piccoli facciamo ricerca abbiamo delle figure specifiche che ci assiste e ci aiuta nella preparazione delle farine per gli animali questo è un altro punto fondamentale dei mangini perché devono essere mangini di origine vegetale possibilmente senza contenere soglia che comunque un prodotto gm allora noi abbiamo fatto una scelta importantissima già dall'inizio dell'attività di essere OGM free quindi quando arrivano i cereali che utilizziamo per il nostro allevamento arriva la fattura con la dicitura OGM free abbiamo sostituito la soglia con due semplici prodotti che è il pisello e il favino dell'orzo del grano tenero tutto bilanciato in base all'esigenza dell'animale l'unica cosa che non è cereale e andiamo ad aggiungere un per cento di lievito di birra lievito di birra che abbiamo visto che regola un po' tutta la funzionalità dell'intestino dell'animale l'animale assimila meglio tutto quello che mangia e quindi l'animale sta più in salute prima parlavi di ormoni ecco un altro punto cruciale degli allevamenti dei polli come ci puoi spiegare perché in italia in realtà negli ultimi anni l'utilizzo degli ormoni è stato diciamo bandito però troviamo dei polli che sono più grandi di quelli che allevavano i nostri nonni qual è la differenza allora la differenza principale è stata il miglioramento genetico sono state nel tempo selezionate delle razze con un rapido accrescimento e selezionate in base al tipo di prodotto che si è andato a fare adesso sul mercato troviamo delle razze a lento accrescimento come quelle che facciamo noi che parliamo di una crescita sui 120 giorni minimo noi diamo minimo 120 giorni anche perché l'animale essendo libero di camminare di razzolare fuori consuma un po di energia e quindi esatto brucia quei grassi che stando fisso fermo a terra quasi fermo a terra non non brucerebbe poi dopo abbiamo quelle razze che si utilizzano per la produzione di petto che sono state selezionate quindi incrocio su incrocio e viene è un animale che sviluppa maggiormente il petto e a differenza di tutto il resto dell'animale quindi però se andiamo nel nostro allevatore di fiducia e vediamo questo pollo più grande non è perché utilizza assolutamente sostanze farmacologiche ma è perché c'è solo una selezione naturale esatto oggi per la ricetta light cioè quella della settimana abbastanza veloce diciamo e non troppo calorica cosa ci prepari allora io ho pensato di parlando di bollo prendere il petto che è la parte più semplice e più veloce e più facile da cucinare però spesso ti lascia indietro perché se non la sai cucinare rimane un po soppacciosa esatto esatto io la andrò a fare con una verza però le faremo una verza julienne faremo saltare tutto quasi a crudo in padella piatto veloce rapido e ci siamo allora inizio prima di tutti sezionando il pollo vado a staccare quelle parti che andremo a fare con un'altra preparazione ovviamente voi potete anche non prendere il pollo intero ma ve lo fate tagliare dal vostro allevatore di fiducia allora direi che il petto io me lo farò sempre tagliare perché non è per me allora adesso andiamo a finire di spezzare le ultime parti allora con questa parte che non penso tu possa utilizzare per cucinare che cosa fai allora io di solito con questa con questa parte qua consiglio di fare un brodo quindi non buttiamo via niente e tutto quello che ci rimane della cassa lo possiamo mettere in un in un tegana una pentola con carote patate sedano però state attenti che il sedano è un allergene e quindi bisogna bisogna usarlo bene per chi ha problemi e ci andiamo a fare il questo brodo e lo mettiamo qui da parte noi oggi andiamo a utilizzare il petto togliamo l'osso lo sterno questo possiamo mettere tra i vari pezzi per fare il brodo e andiamo a staccare la pelle dal petto diciamo che la pelle è l'unica parte del pollo che è un po più grassa un po più calorica quindi è vero che dava tanto gusto ma magari durante la settimana non c'è una ricetta un po più light la togliamo andiamo a staccare il filetto letto vado a prendere la verza la taglio a metà perché che è del tuo orto immagino sì del mio orto o delle aziende con cui collaboriamo quindi andiamo a togliere il cuore quello che è un po più duro ricordiamo che la verza è uno di quelli alimenti che aiutano l'intestino la regolarità la funzionalità il intestino quindi è molto importante durante l'inverno consumare questo tipo di prodotti andiamo a tagliare la verza tutta all'istarelle ok si abbiamo messo la verza in padella io l'ho messa al minimo in modo che così la verza appassisce piano piano e appassando piano piano tira fuori tutti i suoi succhi tutti i suoi liquidi e si andrà a fare una prima cottura nel nella sua acqua esatto vediamo che ancora non avendo aggiunto niente la verza ancora è croccante di suo nel frattempo che la verza appassisce andiamo a preparare il tetto andiamo a tagliarlo tutti a pezzetti così a striccioline a striccioline esatto a straccetti come si dice lo straccetto possiamo andare anche più piccolo e così velociziano anche più la cottura bene l'importante è che il pollo venga cotto bene esatto una di quelle canne bisogna stare attenti che non sia cruda per evitare problemi di infezioni esatto possiamo anche andare aggiungere il pollo il pollo a straccetti io non metto sale o se lo metto lo metto alla fine quando sarà quasi cotto a giusto però non metto sale perché ogni alimento dei suoi sali minerali e voglio andare utilizzare quei suoi sali minerali benissimo quindi anche per chi soffre di partenzione direi che è un piatto perfetto ricordiamo che ancora non hai aggiunto olio giusto no non ho aggiunto olio sto facendo sto utilizzando i succhi della carne e della verza ecco il pollo adesso ha iniziato a rosolare ok adesso che ci siamo il pollo rosolato bene andiamo a sfumare con del vino bianco secco che non si sa poi alla fine chi chi ne bevete più se il pollo che cucina di solito succede così però ricordiamo che ovviamente l'alcol del vino evapora quelli è adatto anche ai bambini questo piatto sì sì adesso alziamo un po facciamo sfumare velocemente l'alcol e poi portiamo a cottura allora una volta consumato il vino possiamo utilizzare un brodo di pollo che abbiamo fatto con con la carcassa le ossa che ci sono rimaste di quando abbiamo preso il pollo se non abbiamo tanto tempo per preparare il brodo se non abbiamo molto tempo di lanci di un assist fenomenale possiamo utilizzare un brodo già pronto che è un'idea nata nel periodo di quarantena dove non ci siamo non ci siamo messi a piangliocci addosso ci siamo rimboccati le maniche abbiamo deciso di fare tanti nuovi prodotti prodotto sano a chilometro zero pensato per chi non ha tempo di cucinare quindi noi adesso vediamo che il vino è finito ovviamente se non avete a disposizione potete fare un brodo vegetale durante la settimana è anche possibile sì a parte che un brodo fatto anche in frigorifero due o tre giorni un frigorifero nella parte bassa che è più fredda abbiamo anche qualche consiglio no quanto ci vuole più o meno a cuocere ma a cuocere tagliando la sia la verza sia il pollo a straccetti penso che con 10 minuti massimo anche come cena dell'ultimo minuto va bene sì 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 è una cena sfiziosissima quindi per un mio piacere personale dare una punta di peperoncino perché a me il peperoncino piace molto senza senza strafare ovviamente ognuno di voi poi può adattarla i propri gusti esatto ci siamo la verza è cotta il pollo cotto a puntino non faccio stracuocere il pollo perché se no poi dopo rimane scopposo e duro e andiamo ad impiattare andiamo a fare un letto di che poi andiamo ad aggiungere il pollo ad aggiungere il sale giusto un po un altro pizzico di pepe e giusto per un piccolo sgarro ma ricordiamo che l'olio a crudo fa bene ha tantissime caratteristiche nutrizionali importanti la differenza che quando lo cuociamo i grassi buoni si trasformano in quelli cattivi e quindi è meglio sempre utilizzarlo a crudo noi abbiamo fatto in 15 minuti quando ci abbiamo messo massimo 15 minuti una verza con pollo aiutati col brodo e dopo la ricetta light che possiamo fare durante la settimana a giovanni ci propone anche una ricetta dalla domenica un po più sfiziosa un po più complessa giusto esatto sempre andando a prendere le parti del pollo quelle che abbiamo messo la parte prima andiamo a prendere la coscia e la sovraccoscia le andiamo a dividere e le andiamo a fare in potacchio io utilizzo erbe officinali molte erbe officinali e anche l'aglio l'aglio si potrebbe mettere in camicia solo che a qualcuno l'aglio da fastidio allora che faccio ultimamente lo vado a tagliare a metà la parte dove c'ho l'anima e lo vado a sfregare sulla padella in modo che do il profumo ma non rilascio più di tanto olio essenziale prendiamo il brodo come prima lo utilizziamo al posto dell'olio siccome quando si fa il brodo noi lo facciamo non filtrato quindi potrebbe rimanere anche qualche piccola parte mettiamo la carne che abbiamo spezzato alziamo e facciamo rosolare adesso viviamo il tempo che che merito nel frattempo che la carne rosola ci andiamo a preparare le erbe aromatiche io utilizzo la salvia niente di secco di biofilizzato o nient'altro gli aghi del rosmarino possiamo metterlo anche intero e poi dopo lo togliamo ok adesso che la carne ha rosolato andiamo a sfumare col vino questa è una ricetta che io la ricordo penso da da quando ero bambino non dico quasi tutte le domeniche a casa era pasta fresca fatta a mano basta all'uovo e il pollo in potacchio quindi questa è una ricetta tradizionale si esatto il pollo o il coniglio adesso dipende dai gusti che noi abbiamo noi di solito di tradizione andiamo utilizzare il pomodorino classico che mettiamo su un po per lavorare sulla cività adesso non ci sono non sono di stagione andiamo a mettere una cucchiaiata di polpa di pomodoro facciamo continuare a rosolare il tutto portiamo a cottura con il brodo perfetto quanto ci vuole per la cottura beh questo è una cottura un po più lunga perché noi lo metteremo con il coperchio lo metteremo a fuoco bassimo che cuoce tranquillamente e fa una cottura un po più lenta siamo arrivati al giusto punto di cottura guarda che spettacolo che bella doratura possiamo accompagnare questo piatto sia con dell'insalata magari della gentilina oppure delle verdure di stagione cotte e andiamo a mettere un po di cigchietto un po di salsa di pomodoro perfetto il piatto è pronto ringrazio giovanni per averci ospitato grazie a voi vi ricordo che le ricette le video ricette le trovate sul mio blog www.lamiobiologanotizionista.it e sui social di col diretti marchi alla nostra campagna amica arrivederci alla prossima puntata ciao e buon appetito ciao 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 ciao